buonasera a tutti oggi in studio con me il professore valerio agnesi che è direttore del dipartimento di scienze della terra e del mare dell'università di palermo anche docente di geomorfologia di geologia ambientale ecco un cumulo di incarichi e io intanto la ringrazio per questa partecipazione con lui parleremo di dissesto idrogeologico che riguarda la sicilia perché lo invito perché per la verità ho letto che c'era una conferenza di battito organizzata all'università sul tema dell'alluvione storica della città di palermo e il dissesto idrogeologico appunto a palermo ma in generale alla sicilia quindi siccome noi abbiamo parlato tante volte di alluvioni di problemi che riguardano appunto il sistema funiale alla città di palermo ho immediatamente pensato di invitarlo per capire qual è la situazione effettiva non solo di palermo ma di tutta la sicilia per quanto riguarda l'assetto idrogeologico e allora il professore tema libero non questa trasmissione la utilizziamo appunto per iniziare spero un circo di incontri che riguardano questo tema che riguarda tutti non è che c'è un siciliano che può dire io non mi interesso di questo tema secondo me è un tema che riguarda tutti e noi con questo piccolo incontro cerchiamo di dare un contributo perlomeno alla comprensione e anche uno stimolo a chi deve operare per far sì che non si verifichi verifichino fatti gravi come quelli che si sono stati a Sarno in altre parti anche della Sicilia non dimentichiamo Messina quello che è successo qualche anno fa. Bene grazie innanzitutto la ringrazio per avermi ospitato qui stasera mi fa sempre piacere potrei parlare di questi aspetti fanno parte anche della mia attività di ricerca scientifica e quindi diciamo di buon grado ho accettato il suo invito perché ritengo fondamentale anche quest'opera di sensibilizzazione come giustamente ha detto lei noi abbiamo purtroppo subito e continuiamo a subire in questi anni eventi tragici spesso tragici o comunque catastrofici eventi alluvionali che sconvolgono la vita causano morti creano danni e quant'altro ancora diciamo che c'è quasi un misto fra fatalità e voglia poi di cancellare dalla memoria questi eventi per cui ogni volta è come se si girasse una pagina nuova di un libro e si ripartisse da zero e invece non è così non è così perché purtroppo la Sicilia in quest'ultimo periodo soprattutto si dà la colpa ai cambiamenti climatici ecco diciamo che possono influire ma non è totalmente così esattamente ora magari su questo poi entrerò più in dettaglio allora diciamo in generale noi ci troviamo in un territorio che per configurazione fisica e geologica e per assetto orografico cioè la distribuzione delle montagne delle pianure e anche per gli aspetti climatici è soggetto ad eventi alluvionali questo è un fatto diciamo inequivocabile sul quale non ci si può fare nulla il problema qual è che questo stesso territorio è stato nel corso dei secoli e soprattutto negli ultimi decenni pesantemente urbanizzato dalle città dall'espansione dei centri abitati dalla viabilità e quant'altro spesso non tenendo conto delle problematiche idrogeologiche delle problematiche legate allo smaltimento delle acque al diciamo al ruscellamento dell'acqua di pioggia e quant'altro allora questo mix di situazione diciamo assetto fisico e diciamo utilizzo del territorio spinto o comunque senza tener conto di quelle che sono le problematiche poi ha creato i presupposti perché molti eventi che magari potrebbero essere normali normali temporali diciamo diventano degli eventi catastrofici tipo quello che è avvenuto fino a ottobre prima di novembre che ha causato tutti quei morti tra l'altro ben nove morti solamente diciamo nella casa ad altavilla a casteltaccia diciamo nel bacino del milice quindi diciamo è un problema che esiste da sempre ma è un problema che negli ultimi anni sta diventando sicuramente molto più pressante. Qual è la cosa che non bisogna mai fare perché noi abbiamo sentito di deviazione di uscelli, interramento di fiumi, queste sono le cose proprio che non bisogna fare assolutamente. Ma come si può arrivare a concepire un fatto del genere? Non si comprende che la natura ha un suo corso anche nelle cose più semplici e non si deve mai interferire con quella che è appunto l'ambiente e bisogna avere un rispetto notevole diciamo di tutta la struttura ambientale. Guardi diciamo... C'è l'inconsenso umano? Può arrivare a questo? Uno magari sorride? No, lei ha dato la risposta logica. Quello che noi diciamo sempre ai nostri studenti nei corsi di geologia o di geomorfologia o geologia ambientale come quello che tengo io è che in primo luogo bisognerebbe rispettare quelle che sono gli assetti naturali perché è chiaro che se un corso d'acqua ha un certo tracciato evidentemente questo non è casuale ma deriva da millenni, centinaia di anni viene da molto lontano. Quindi l'evoluzione del territorio è quello che la gente spesso non tiene in considerazione che la terra, la crosta terrestre e quindi anche la superficie della terra non è un'entità stabile è un'entità in evoluzione. Ora è chiaro che ci sono zone dove questa evoluzione è molto rapida ci sono zone dove questa evoluzione è molto meno rapida ma comunque la terra cambia il suo paesaggio. Se non ci fosse interferenze di nessun genere nel tempo, ma parlo ovviamente di centinaia, talvolta di milioni di anni la superficie della terra cambierebbe il suo assetto. Allora è chiaro che se un fiume ha un determinato corso questo fiume è la natura che lo ha indirizzato in quel percorso. Le faccio un esempio, proprio per restare in tema di casa nostra, Palermo. Palermo, tutti noi sappiamo più o meno l'Oreto, ma ora parleremo di quello, ma parliamo per adesso di questo aspetto. L'Oreto è un'altra cosa, è spiegabile. Allora, le spiego per esempio sul discorso dell'Oreto. L'Oreto, diciamo dalla guadagna fino alla foce, aveva un percorso tortuoso che noi chiamiamo a meandri. Ovviamente questo percorso faceva sì che in occasione di eventi di piena il fiume sondasse da una parte o dall'altra, creando problemi in quelle zone. Quando fu costruita la stazione centrale e fu portata la ferrovia, per salvaguardare quell'area dalle inondazioni si utilizzò una tecnica ingegneristica che allora era molto in voca, quella di raddrizzare il corso d'acqua e cementificarne l'alveo e quindi l'Oreto praticamente dalla guadagna in poi, diciamo, quando entra in città, di fatto scorre un'alveo artificiale. Questo ha risolto il problema? No, assolutamente no. Anzi, ogni volta che ci sono eventi alluvionali e il più famoso è stato quello che ha colpito Palermo nel 1931, le acque dell'Oreto esondano e tranquillamente vanno ad allagare quelle zone dove prima scorrevano naturalmente. Molti palermitani si chiedono perché il ponte dell'ammiraglio è in un prato e non è su un fiume, perché fino alla metà dell'Ottocento l'Oreto passava là sotto, poi fu rettificato. Difatti, ogni volta che ci sono problemi, quelle zone si allagano, perché sono le zone evocate a questo problema. Ma Palermo cosa rischia realmente, considerando l'esistenza sotterranea, chiaramente, che poi ci sono, non è che sono scomparse, sia del papireto che del chemone. Allora, Palermo ha... E se ci sono degli interventi che possono essere risolutivi del problema, perlomeno che possono mitigare gli eventuali danni che si possono... Io onestamente temo sempre, perché sono consapevole di questa vecchia concezione che la natura non va a modificare. E questo dovrebbe essere così. Quindi questo morirà con me, questa convinzione. Però è chiaro che adesso, diciamo, da quando esiste Palermo, soprattutto da quando sono stati cancellati, adesso, come giustamente lei faceva Cenno, penso che non so quanti telespettatori abbiano contezza del fatto che Palermo ingloba due fiumi, appunto il Chemonia e il papireto. Questi fiumi non sono scomparsi, come giustamente ha detto lei, scorrono in tubature sotterranee. Il Chemonia praticamente, diciamo, passa radente Palazzo Reale e si infila sotto via Porta di Castro, mentre il papireto scende, diciamo, nella zona, appunto, dietro la cattedrale, la zona della guilla e poi scende attraverso quelle strade per finire anche lui originariamente alla cala. I fiumi non sono scomparsi, sono stati, come si dice in termini tecnico, tombati. Quest'operazione è iniziata verso la fine del 1400. Perché? Perché la città nel frattempo si era espansa e occorrevano aree, diciamo, dove edificare la nuova città e questi fiumi probabilmente creavano problemi e si pensò di adottare questa soluzione. Ora, nel 31, noi facciamo sempre riferimento all'alluvione del 1931, effettivamente piove una quantità d'acqua notevole, soprattutto per diversi giorni e praticamente il Chemone e il Papireto hanno ripreso il loro alveo. Da una parte sono scoppiate le tubature in profondità, addirittura nella zona della Vuciria si creò una voraggia e un uomo cadde là dentro e annegò. Ma non solo quindi si ruppero le tubature, ma anche l'acqua riprese il suo corso. Tant'è vero che le zone dove si ebbero più danni e più morti... La domanda potrebbe essere facile. Se si verifica un alluvione come quella del 31, che io ho sempre avuto raccontato alla buonanima di mia madre, perché loro abitavano nella zona di Partanna, mondo e si viaggiava con le barche, perché era talmente alta l'acqua che si era accumulata che non si potevano muovere e si dovevano muovere con le barche. Allora, se si verifica un evento così drammatico come quello di allora, cosa potrebbe succedere a Palermo? Capisco che è pure provocatoria la domanda. No, beh, allora, è chiaro che dopo l'alluvione del 31 sono state messe in opera alcuni interventi. Il primo intervento ha riguardato la creazione di un canale, che è il canale Bocca di Falco, che raccoglie le acque che scendono da Bocca di Falco, quindi dalla zona di San Martino. Che però non è adeguatamente assistito da sempre. Che dovrebbe subire interventi di manutenzione sicuramente più adeguati, continui e quant'altro. Queste acque vengono deviate sul reto, difatti raccogliendo anche le acque che scendono dalla parte montana del Chemonia. Tant'è vero che qualche forse automobilista attento si sarà accorto, superando il ponte Corleone, che c'è una cascata là immediata. E questa cascata sono proprio le acque che provengono da questi drenateli. Quindi, diciamo, le acque che provengono dal vallone di San Martino, che furono quelle che causano molti danni all'alluvione del 31, teoricamente sono state deviate. Ora le spiego il perché del teoricamente. Dovrebbero andare a confluire e quindi a scaricarsi nell'oreto. Poi si doveva realizzare tutto un canale di Gronda che raccogliesse tutte le acque dei settori più settentrionali e le convogliasse nel canale di Passo di Rigono che a sua volta scarica nel porticciolo dell'Acquasanto. Quindi queste due opere che abbracciano in qualche modo la parte montana della città di Palermo dovrebbero... Perché diciamo dovrebbero. E qua entra in ballo un... Intanto occorrebbe una manutenzione e noi sappiamo che spesso purtroppo uno dei problemi che abbiamo... Sembra che siano stati destinati dai fondi ma ancora non mi risulta che siano iniziati i lavori. Poi naturalmente allacci abusivi e quant'altro possono provocare una quantità maggiore di smaltimento idrico previsto, quindi di portate. E poi qua entra in ballo il discorso di cui si faceva cenno all'inizio. Le variazioni climatiche. Tutte le opere idrauliche che noi abbiamo nella nostra regione sono state dimensionate su calcoli idraulici che tenevano conto ovviamente del periodo pregresso rispetto al momento in cui sono state realizzate o progettate. Quindi noi, i progettisti, sono basati su piogge relative al 1800 e alla prima metà. Una statistica datata. Qualcosa sta cambiando. Noi in questo momento le famose variazioni climatiche sono legate non tanto alla quantità ma quanto più che altro al fatto che abbiamo eventi di breve durata ma di grande intensità. Quindi adesso le qualità d'acqua da smaltire in breve tempo sono aumentate. Sono le famose bombe d'acqua di cui si parla giornalisticamente parlando. Quindi andrebbero rifatti un po' di conti per capire se le dimensioni di queste opere idrauliche possano smaltire eventi di piena legati a effetti meteorici intensi di breve durata molto intensi. E' uno studio che è stato fatto? Si va facendo. Ho una domanda. In che misura è stata coinvolta in questi ultimi anni l'università, in particolare il vostro dipartimento? Il nostro dipartimento non è stato coinvolto. Non è stato coinvolto. Il nostro dipartimento raccoglie tutti i geologi. Perché non capisco io. Questa città è strana. Non si avvale appunto dell'università nei casi in cui se ne dovrebbe avvalere. Poi invece se ne avvale per altri aspetti magari di altro tipo. Secondo me quando ci sono problematiche che riguardano tutti i cittadini almeno secondo il mio parere si dovrebbero coinvolgere più professionisti, più istituzioni possibili. Perché è il bene comune che deve essere trattato. Senza distinzione di partiti politici, senza nulla. Cioè in questo caso non mi sembra opportuno che ci siano distinzioni di carattere appunto politico. Qua il bene è comune e uno deve fare leva su tutte le forze disponibili che ci sono sul territorio. Io direi che il nostro dipartimento per quanto riguarda gli aspetti della ricerca scientifica in ambito geologico perché il nostro dipartimento che comprende anche altre professionalità per esempio gli ecologi fanno parte pure del nostro dipartimento diciamo che da diversi decenni si portano avanti studi legati alla dinamica dei versanti e alle problematiche legate al rischio alluvionale sia in ambito urbano ma anche e soprattutto in ambito extraurbano. E quindi ovviamente le nostre competenze che sono peraltro come dire testimoniate dalle pubblicazioni scientifiche che sono a disposizione di chiunque le voglia utilizzare. Io volevo aggiungere anche... ci sono scienziati al comune di Palermo penso che non hanno bisogno delle vostre competenze lo dico io però questo è quello che risulta da diverse interviste che ho fatto e da quello che si verifica perché poi parleremo anche se brevemente delle famose alluvioni che riguardano la zona nord-est di Palermo. ecco sulla zona nord-est volevo aggiungere... Ma stava completando una cosa... No ecco volevo dire sulla... allora il contesto diciamo urbano ecco per dire la città storica quello che si diceva il centro storico di Palermo sicuramente all'interno ha queste sue problematiche anche in occasione dell'ultimo evento quello che ha causato i morti a Palermo mi pare che si ebbero una quantità di pioggia notevole se non ricordo male 70 mm in qualche ora che è una quantità notevole Nel 31... No no parlo dell'ultimo evento Nel 31 fu un evento devastante nel 31 la stazione di Pioppo rilevò 500 mm in 48 ore e a Palermo Porto gli annali riportano questa stazione che evidentemente era in questa zona si rilevarono ben 300... più di 350 mm in 48 ore se voi considerate che le medie di Palermo si agirono su 600 mm dai 600 ai 700 mm annui ecco si può capire che quantità di acqua enorme è arrivata su questa città no dicevo nell'evento ultimo quello che ha causato i morti di Casteldaccia per esempio la via Porta di Castro diventò un fiume l'abbiamo visto dalle immagini sul web circolavano esattamente è impressionante pure la velocità la stessa velocità che si verifica a Pizzosella nelle vicinanze di Pizzosella è certo perché il problema è che l'acqua arriva a velocità in un fiume è chiaro che la portata scorre con grande velocità però ci sono sempre degli ostacoli tipo naturale l'alveo di solito serpeggia non è mai rettilineo c'è materiale invece dove abbiamo una strada poi la via Porta di Castro è un rettifilo quindi è chiaro che l'acqua lì prende velocità lo stesso discorso che facevo prima nell'Oreto rettificando la parte terminale dell'Oreto anche lì l'acqua prende velocità un'altra zona che dà sempre problemi è l'ex papireto quindi la zona che si trova la via Mera la via Mera chiaramente ma anche per esempio la zona a monte di via Macqueda la piazza Santonofrio che è più bassa durante l'alluvione del 31 si raggiunsero 6 metri d'acqua non so se poi c'è un'altra zona problematica che è la zona del canale Passo di Rigano perché anche lì questo torrente diciamo che poi è stato ingabbiato tende a esondare e quindi le zone per esempio del Lucciardone queste zone di qua del porto lato settentrione sono anche queste soggette a esondazione e questo è il problema diciamo della città chiamiamo così poi c'è il problema della piana dei colli perché lì i problemi sono molteplici e legati al fatto che queste zone prima erano come lei sa benissimo e come molti palermitani ricordano giardini che significa che la superficie del suolo non era occupata non era cementificata quindi gran parte dell'acqua veniva assorbita e oggi con la crescita della città tutta questa acqua che dovrebbe essere smaltita da un sistema evidentemente di allontanamento e di incalanamento delle acque di pioggia delle acque bianche evidentemente non sempre funziona correttamente le cause possono essere facilmente anche immaginabili sotto dimensionamento mancata manutenzione per cui cosa succede che l'acqua evidentemente scorre scorrendo sulla superficie topografica tende ad allagare le zone più basse e quindi i famosi allagamenti di Mondello Mondello era una palude fu bonificata ai primi del secolo del novecento e quindi è chiaro che mantiene in sé quelle caratteristiche quindi sono delle zone nevralgiche che a mio parere andrebbero sempre attenzionate in previsione di eventi meteorici di una certa intensità anche in questo caso non si spiega come non si cerca di trovare immediatamente un problema ma si programma per trovare cioè ormai non siamo più a programmare interventi a medio a breve e a lungo termine o a breve a medio qua ormai secondo me deve intervenire la protezione civile per attuare qualche cosa di immediato che possa perlomeno evitare i danni che si sono registrati nelle ultime alluvioni guardi io credo che in Sicilia stante ormai la situazione che noi abbiamo un po' focalizzato sul Palermo ma che riguarda interventi seri secondo me occorrerebbe diciamo una cabina in regia unica perché spesso noi assistiamo a interventi disarticolati io credo che noi scontiamo un effetto diciamo una mancanza che è la mancanza di un servizio geologico regionale autonomo mi spiego non che non esistano in Sicilia diciamo all'interno degli assessorati competenze dei servizi geologici hanno nominato il commissario per le acque però dico ecco a noi manca l'organismo tecnico che secondo me dovrebbe avere competenza su tutta la Sicilia a mio parere dovrebbe essere sganciato dagli assessorati e posto alla diretta dipendenza del presidente della regione perché è quantomeno diciamo a un livello superiore alle problematiche fra assessorati e dovrebbe essere un organo tecnico un organo costituito da geologi ma non solo evidentemente ingegneri agronomi che possa guardare in un termine unitario soprattutto i piani e i progetti di sviluppo perché il problema non è solo tamponare le emergenze ma è cercare di evitare attraverso diciamo proprio uno sviluppo più armonico dal territorio che avvengano problemi di questo genere io però mi riferisco anche alla lentezza burocratica cioè non si può aspettare tanto tempo per realizzare un'opera noi abbiamo visto il famoso depuratore dei 100.000 di Villa Adriana io credevo che fosse stato realizzato invece scopre in quest'ultimo periodo che ancora mancano 800 metri per completare lo sboccamare dove non sarebbe possibile scaricare le acque depurate perché c'è un divieto che è stata creata una riserva naturale quindi dovrebbe essere allora io dico non si può aspettare che cosa bisogna trovare una soluzione ma appunto diciamo io adesso ecco c'è bisogno di accelerare le procedure oltre che individuare quali sono i rischi complessivi appunto di tutta la regione quali possono essere le soluzioni nello stesso tempo trovare un meccanismo per realizzare immediatamente le opere che si sono perlomeno quelle urgenti il problema della lentezza burocratica è un problema purtroppo che assilla diciamo la Sicilia ma anche l'Italia in tutti i campi evidentemente in questo ambito dove poi entrano in gioco problemi anche di sopravvivenza di vita umane è chiaro che nessuna lentezza dovrebbe esistere però io torno a quel discorso che dicevo di prima spesso le lentezze sono dovute a una frammentazione poi di competenze all'interno di un certo iter progettuale se esistesse una autorità diciamo superiore a tutte le altre che dettasse le linee guida legate ad aspetti appunto per esempio di natura geologica o di rischi questo coinvolgendo le università il vostro dipartimento esiste solo a Palermo oppure c'è pure a Catania a Messina no allora come diciamo ovviamente a Catania c'è un dipartimento che non si chiama di geologia perché adesso adesso insomma con la piena attuazione della riforma Gelmini che ha posto dei limiti delle soglie dei limiti di numerosità ai dipartimenti molti dipartimenti sono dovuti accorpare e quindi adesso sono pochissimi dipartimenti di geologia anche perché i docenti di geologia siamo pochi in genere rispetto ad altri noi abbiamo tradizioni di numeri molto elevati nelle facoltà quelle che una volta si chiamano le facoltà umanistiche a giurisprudenza e quant'altro mentre a noi sono pochi però a Catania per tornare alla sua domanda esiste un dipartimento dove è presente la geologia ovviamente è molto finalizzato agli aspetti di studi vulcanologici come è ovvio che sia perché sono sull'Etna in questo momento sono in piena attività però esistono colleghi che si occupano anche di queste problematiche e anche a Messina anche se Messina non ha un corso di laurea in scienze geologiche mentre ce l'abbiamo noi e Catania e quindi diciamo comunque le competenze ci sarebbero ecco non è questo che rapporti ci sono fra le tre università cioè chiaramente ai fini di uno studio complessivo di tutta la Sicilia perché diciamo parlavamo poco fa di Sciacca chi si interessa di Sciacca dico insomma abbastanza problematica come anche il Trapanese perché anche il Trapanese dove c'è chiaramente uno sviluppo urbanistico pure particolare pure presente diciamo che fino agli anni 60-70 c'era più o meno diciamo una certa conflittualità scientifica tra l'università di Paermo e Catania legata magari anche ai docenti di allora insomma queste cose ovviamente sono andate cambiando oggi c'è grande apertura e grande disponibilità e collaborazione fra di noi quindi a livello di ricerca scientifica non ci sono problemi anche perché noi collaboriamo tantissimo con i colleghi di Catania e con i colleghi di Messina per evitare che non si affronti un argomento perché ce l'ho affrontato un altro oppure che entrambi affrontati un argomento in maniera diversa quindi non c'è un'unicocità di elaborazione per esempio che so sugli aspetti costieri tutte le problematiche costiere i colleghi di Messina sono sicuramente avanti e ben quotati anche a livello internazionale e quindi ecco su quelli tutti noi lavoriamo assieme a loro e così chiaramente anche in altri ambiti quindi diciamo sul piano della ricerca scientifica noi siamo aperti e pronti a qualsiasi tipo di elaborazione però siamo sempre là se la politica non recepisce quelle che sono le vostre intuizioni e i risultati delle vostre ricerche è tutto inutile per carità quindi quando quando si vogliono trovare degli escamotaggi per giustificare l'abusivismo edilizio mi riferisco all'abusivismo quello più evidente quando si costruisce proprio il riva al mare e si pensa di salvaguardare attraverso un abusivismo per necessità o chissà quale altra invenzione cioè veramente siamo alla preistoria guardi io proprio riguardo all'abusivismo i fatti di Casteldaccia sono stati dolorosissimi e ci hanno coinvolto tutti sul piano emotivo perché vedere c'è una famiglia sterminata due bambini morti eccetera eccetera però resta un problema è impensabile che nel 2020 esista delle case un nucleo di case quasi diciamo un villaggio costruito in una piana alluvionale la piana alluvionale è proprio dove normalmente il fiume è sonda l'incoscienza dei soggetti c'è l'incoscienza dei soggetti però diciamo qualcuno doveva pure intervenire adesso magari chiaramente stavolta la magistratura dovrà necessariamente fare le indagini però è impensabile ecco che queste cose possano ancora oggi essere consentite intanto avvenga va bene professore siamo arrivati alla conclusione io la ringrazio per questa partecipazione spero che ci siano altre occasioni per discutere di questi argomenti che ritengo importantissime avrei la voglia di riscrivermi pure io all'università a prendere un'altra laurea proprio perché prima come le dicevo prima della trasmissione avevo sottovalutato questo aspetto ecologico ambientale che invece ritengo fondamentale anche per lasciare ai nostri nipoti nel mio caso qualche cosa di buono lasciare una terra migliore di come l'abbiamo trovata quindi grazie a lei grazie a te le spettatori buonasera a tutti buona copilità buonaásera a tutti buona thought di buona buona